Si è tenuto in gran guardia a Verona il convegno Noi, persone della società complessa dedicato al mondo della scuola, nel quale sono stati presentati i dati di una ricerca condotta su una decina di istituti superiori veronesi. Che dati vengono presentati oggi? Allora, dei dati molto importanti che sono emersi da focus group realizzati all'interno delle scuole, tra studenti, docenti e i genitori. Un metodo e un modo innovativo per fare ricerca. Abbiamo fatto prima dei focus con i genitori, poi con gli insegnanti e infine da soli, noi studenti da soli, con il professor Giumelli. Per cui c'è stato anche questo momento in cui non solo con i genitori, non solo con i nostri insegnanti, ma anche da soli, riuscivamo da soli nella stessa stanza a dire anche problematiche che forse insieme ad altri adulti, con i professori, con i genitori non si riuscivano a dire. Emergono due cose, una diciamo più negativa e una positiva. Partiamo da quella positiva, i ragazzi sono migliori di quello che normalmente noi pensiamo, sono più bravi, attenti e riflessivi. Alcuni dei problemi nelle scuole che derivano, emergono da questi focus group che ho fatto nelle scuole della provincia di Verona, sono sempre gli stessi. La formazione, la passione, il dare senso a quello che stanno facendo. Altri sono totalmente nuovi e derivano da un triangolo di difficile interpretazione. Ambiente scolastico, famiglia, nuove tecnologie, che sta rivoluzionando tutto il tema della socializzazione scolastica. Noi andiamo nelle scuole, nei comuni, nell'associazione sportiva, dove ci chiamano gratuitamente a fare cultura digitale rivolta ai genitori, perché troviamo che quello che manca oggi è proprio consapevolezza nella fascia adulta, nella fascia dei genitori, ma purtroppo a volte anche degli insegnanti, perché l'età è la stessa. E quindi i dati che io potrò ascoltare oggi sicuramente saranno utili per rendere ancora più concreti questi interventi.